La prefettura di Agrigento ha attivato misure di sicurezza per l'avvocato Calogero Montante di Canicattì in attesa di affrontare il caso della telefonata minatoria nel prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La chiamata al penalista è arrivata alle 14.02 di sabato scorso sul telefono cellulare collegato in deviazione di chiamata con quella dello studio legale di Canicattì. L'avvocato Montante mercoledì scorso è stato nominato presso il foro di Caltanissetta difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro. Si tratta del processo d'appello sui mandanti delle stragi di Capace e Via D'Amelio in corso a Caltanissetta dove il boss è imputato. Un procedimento per il quale è stato già condannato all'ergastolo in primo grado quando era ancora latitante. Matteo Messina Denaro avrebbe dovuto essere difeso da sua nipote l'avvocato Lorenza Guttadauro che ha rinunciato in quanto figlia di Rosetta Messina Denaro arrestata il 3 marzo. È stato quindi nominato un avvocato d'ufficio e la scelta è ricaduta sul legale Calogero Montante di Canicattì che ha subito evidenziato l'inopportunità di svolgere l'attività difensiva. Sabato poi è arrivata la telefonata minatoria.